Alle mie spalle, all'ospedale di Careggi che a Firenze è anche la sede dell'Università di Medicina e Chirurgia, nella manovra del governo Lega Pentastellato c'è anche l'idea di abolire eventualmente tra qualche anno il test per entrare in questa speciale selezione. Si tratta di una prospettiva, era quindi giusto venire a sentire l'umore di chi il test l'ha superato, ma ha comunque un sogno, fin da quando era bambino. Il test penso sia una questione logistica perché duemila studenti che vogliono fare medicina a Firenze non si mettono da nessuna parte. Non c'è disponibilità per avere tutti questi studenti a fare tirocini nelle lezioni eccetera. Al massimo uno può rivedere il modo di selezionare gli studenti, ma comunque può essere non giusto come metodo, però un metodo ci deve essere. Secondo me sarà un po' un problema per i posti di lavoro, perché il numero chiuso permette una maggior qualità in tante facoltà come medicina, anzi anche le professioni sanitarie. Secondo me perdere questa qualità data anche dal numero chiuso può portare a un sovraffollamento nei posti di lavoro. Non credo che sia il test che selezioni la bontà dei partecipanti a un determinato corso di laurea, in questo caso medicina. Secondo me si dovrebbe fare l'ingresso libero per tutti e magari al termine del primo anno vedere chi ha dato esami, chi ha frequentato, chi non ha fatto nulla o a casa a quel punto lì. Un anno proprio ideotico a vedere chi è in grado, chi è interessato, chi è motivato.